Ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti o bentornati in questo nuovo video allora oggi video per quanto riguarda il make up che ho selezionato per il mese di gennaio prima di iniziare mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina così rimanete aggiornati vi arriverà la notifica si spera se youtube manda le notifiche perché so che ultimamente non sta mandando varie notifiche non lo so c'è tanti vedo che si stanno lamentando quindi attivatela comunque la campanellina e se vi è piaciuto poi questo video vi piace questa tipologia di video mi raccomando mettete un bel like e se avete voglia lasciate anche un commentino io direi di partire subito partiamo subito con tutti i prodottini che ho selezionato per questo mese di gennaio ci sono un po' di prodottini nuovi che non ho ancora utilizzato come sapete ho fatto un bel po' di acquisti ultimamente quindi è anche giusto provarli allora come primer viso ho selezionato il pore filler primer di NYX questo qui che ho trovato nel calendario dell'avvento non l'ho mai ancora utilizzato quindi sono molto curiosa di vedere come si va a comportare sul mio viso dovrebbe andare benissimo per la mia tipologia di pelle quindi vediamo un pochino come sarà poi come correttori sono andata a selezionare come al mio solito due correttori uno per andare a coprire l'occhiaia e sono andata a selezionare il beige 200 di Yves Rocher questi ombretti liquidi di Yves Rocher che a me piacciono tantissimo comunque hanno una buona coprenza eccolo qui e quindi nulla andrò a utilizzare lui per andare a coprire un pochino quel colorito magari violaceo un pochino che ha l'occhiaia e per andare invece ad illuminare il contorno occhi ho selezionato il numero 01 di Astra è un fluid cover pen è una fluid cover pen questo qui che vi ho fatto vi ho mostrato ultimamente in un video all misto del secondo round di acquisti che ho fatto nel Black Friday quindi loro due come fondotinta ho selezionato un fondotinta solo ovviamente anche perché è nuovo quindi di sicuro non lo andrò a terminare nel mese di gennaio l'ho utilizzato anche per questo make up ed è il Transformist di Astra il foundation più concealer quindi fa sia da fondotinta che da correttore e il mio è nella colorazione 02 poi come polveri viso per andare a settare il contorno occhi per andare a fare un po' di contouring per andare a dare quel colorito al viso ho selezionato la Decali Contour di Smashbox questa è un po' di mesetti che l'ho acquistata non da tantissimo l'ho utilizzata ancora poco da quando appunto ce l'ho quindi ho voglia proprio di metterla in utilizzo di utilizzarla all'interno troviamo appunto anche un illuminante abbiamo anche lo specchio questa palette è bellissima io l'avevo desiderata l'ho desiderata tantissimo e mi piace un sacco abbiamo anche un blush abbiamo due terre quindi una un pochino più fredda secondo me ottima per il contouring questa per andare a scaldare l'incarnato poi abbiamo due illuminanti uno un pochino più freddo più chiaro uno un pochino più caldo su queste tonalità del dorato bronzo e poi abbiamo questa cipria qua gialla quindi ottima per andare a settare un pochino il contorno occhi quindi andrò a utilizzare questa un po' per tutto però visto che siamo già in tema di polveri viso ho selezionato comunque un blush è un illuminante mono diciamo singoli come blush ho selezionato di Astra il blush expert effetto seta nella colorazione 07 questo qui che anche questo l'ho comprato con il black friday con i saldi top che aveva fatto Astra è un color borgogna bello scuro bellissimo poi come illuminante ho selezionato questo qua di Catrice della collezione della Disney per quanto riguarda le cattive e questo è lo 01 demonic rose che è questo che ho utilizzato oggi come potete vedere bello da un bell'effetto bagnato mi piace come illuminante ma io come il nome demonic rose mi aspettavo magari un illuminante più rosato ma invece è più comunque tendente al dorato ma non mi dispiace perché è bellissimo bellissimo quindi ho selezionato anche lui poi ho voluto selezionare anche come illuminante per andarlo a provare visto che è un prodotto che proprio come tipologia di prodotto non ho mai utilizzato ho selezionato un illuminante liquido di NYX il Born to Glow questo qui nella colorazione Sublime no scusate Sunbeam colorazione Sunbeam questo qui questo l'avevo trovato appunto nel calendario dell'avvento di NYX è un prodotto che non ho mai utilizzato cioè non ho mai utilizzato liquidi illuminanti liquidi e quindi sono curiosa a vedere un pochino se riesco ad utilizzarlo vediamo se appunto riuscirò ad utilizzarlo o se no magari lo andrò a utilizzare come ombretto voglio trovare comunque un modo per poter utilizzare questo prodottino qua poi prodotti viso ho terminato per le sopracciglia ho selezionato la matita questa qui di Douglas che avevo trovato nel calendario dell'avvento questa qua che avevo già utilizzato devo dire che non mi è dispiaciuta affatto come matita quindi voglio riutilizzarla anche per il mese di gennaio e poi ho selezionato il mascara questo qui colorato di Yves Rocher questo è nella colorazione 03 poi ho selezionato anche per le sopracciglia questa matitina mini 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 di Benefit che mi era stata data come campioncino appunto da Sephora questa è nella colorazione 03 è la Precisely My Brow Pencil sono curiosa di provarla voglio vedere se la colorazione è giusta perché poi vorrei andarla ad acquistare ho un po' di buoni sconto da Sephora da utilizzare e questi buoni sconto su Benefit li posso sfruttare comunque poi a gennaio arrivano anche i saldi quindi ok poi passiamo agli occhi allora come base primer per gli ombretti ho selezionato questo qui di NYX HD Studio Photogenic nella colorazione no non c'è un nome non c'è un numero non c'è colorazione quindi credo ci sia solo questo comunque è questo qui che ho trovato nel calendario dell'avvento ancora non l'ho provato questo qui quindi sono molto curiosa di provarlo e ho selezionato appunto lui poi come ombretti liquidi ombretti in crema ho voluto selezionare un prodottino ed è della Pupa Vamp il Cream Eyeshadow Vamp numero 200 non so se sia quello comunque questo è il bottino e questo è il colore che ho selezionato un colore molto bello fa da una luminosità pazzesca e questo ha sì all'interno del io vedo delle perlescenze sul dorato giallino qualcosa anche di verde argento è un colore particolare ma bellissimo io tante volte quando vado di fretta lo applico direttamente così sull'occhio e mascara matita nera e ho finito però da utilizzare insieme a questo magari se voglio andare a intensificare un pochino il trucco occhi esternamente appunto all'esterno dell'occhio ho selezionato il Long Lasting Eyeshadow Stick di Kiko nella colorazione 39 che sono questi qua i matitoni famosi di Kiko questo è il colore è un bel marrone scuro quindi ottimo per andare a intensificare magari un pochino questo ombretto nella parte finale dell'occhio per dare più intensità allo sguardo come palette occhi ne ho selezionate due una proprio low cost ed è questa di Essence che ho acquistato su Pink Panda questa è della linea delle principesse della Disney era uscita insieme a quella invece della linea di Catrice Catrice aveva fatto le cattive della Disney diciamo e invece Essence quelle le principesse io avevo preso questa di Biancaneve e sono stata almeno nel video con gli swatch questa palette mi era piaciuta veramente tanto ora ve la mostro ho rimesso sulla pellicola ma la tiro via perché si attacca talmente bene che poi è un disastro toglierla allora questa è la palettina come potete vedere tonalità ho scelto questa che ha tonalità un pochino più nude marroncino, calde però ha all'interno appunto questi particolari qua quindi ha questo verde che è molto particolare questo blu che è bellissimo comunque se volete vedere gli swatch di questa palette vi rimando appunto al video all di Pink Panda se mi ricordo lo metto qui nelle info o se no ve lo metto giù nell'info box vediamo un pochino nelle schede qui in alto giù nell'info box dove mi ricordo di metterlo nella speranza di ricordarmi comunque lì avevo fatto gli swatch di tutta di questi ombretti e anche degli altri prodotti che avevo acquistato di queste linee qua di Essence barra Catrice comunque ho selezionato questa che appunto ha questi colori particolari all'interno e ho selezionato anche da utilizzare da provare a utilizzare anche in combo a questo ombretto qui blu questo matitone jumbo di Yves Rocher eccolo qua che è questo che è questo blu notte qua molto bello quindi magari vorrei provare anche a fare uno smoky con questo colore qui blu andando a mettere magari come base questo ombretto qui questo matitone jumbo di Yves Rocher quindi vediamo un pochino questo comunque anche da utilizzare sotto la rima inferiore dell'occhio è ottimo devo provare e voglio anche provare a utilizzarlo all'interno dell'occhio della rima interna dell'occhio per vedere se funziona bene anche all'interno dell'occhio ma poi vi saprò dire quindi ho selezionato questa ha anche questo dorato che è bellissimo comunque questa palette mi è piaciuta tantissimo con gli swatch vediamo come si comporterà appunto sulla palpebra e poi ne ho selezionata una invece di un costo diverso ed è di Tarte la Tarte Lette Lille Juicy questo è un set era un set di tre palettini che avevo preso col Black Friday da Sephora ho selezionato questa a parte il pack bellissimo la paletta all'interno ha anche un mega specchio stupenda ho selezionato questa che ha tutti questi toni rosati quindi diciamo un pochino diversa rispetto a quell'altra che ha toni più sul marroncino ha quel blu ha quel verde quindi diciamo che come colorazioni posso spaziare un bel po' con i miei make up quindi ho selezionato questa che ha tutti questi toni sul rosato borgogna fucsia anche questa ha un dorato poi ha questo color matt qua panna bellissimo comunque non vedo l'ora anche questa di utilizzarla perché da quando l'ho acquistata ancora non l'ho utilizzata ebbene sì quindi perché io sono fedele alla make up bag che seleziono nel mese come matite occhi ho selezionato questa verde che è la 03 di Astra questa qui questo è lo swatch ecco qui ho selezionato la verde perché appunto nella palettina di Essence c'è quel colore verde quindi se utilizzerò quel verde ho anche la matita abbinata poi ho selezionato quella l'enigma si chiama enigma della pastello questa qui che è un blu spettacolare che è questo qui e questo anche all'interno dell'occhio sono fantastiche e questo appunto l'ho selezionata perché c'è quel blu all'interno della paletta sempre di Essence e poi ne ho selezionata vabbè una nera ovviamente per l'interno dell'occhio che non deve mai mancare ho preso questa qui di Kiko la numero 100 questa qui che se non sbaglio forse non ricordo se ho trovato nel calendario dell'avvento l'abbia acquistata io non mi ricordo e poi come matita marrone ho selezionato questa di Essence la Long Lasting Eye Pencil 02 Hot Chocolate questa qui queste matite qui di Essence sono spettacolari ed è questo lo swatch anche questa da utilizzare appunto sempre magari sotto la rima inferiore dell'occhio quando faccio i trucchi con la palettina di Essence sulle tonalità appunto del marroncino ok ok mascara mi ho selezionato uno solo questo mese perché vorrei cercare di portarlo a termine ed è il 360 gradi volume waterproof mascara di Yves Rocher questo qui vorrei cercare di portarlo a termine non credo che manchi tantissimo perché è anche un po' che ce l'ho aperto questo qui è un mascara che mi piace abbastanza non è tra i miei preferiti però devo dire che quel poco di volume alle ciglia me lo dà e quindi vabbè ho voluto selezionare lui per far girare un pochino tutti i mascara che ho aperti ok ora siamo arrivati alla sezione labbra e poi abbiamo terminato allora ho selezionato alcuni prodottini ho selezionato dei prodottini nuovi ho selezionato il l'unico creamy love che ho di Clio Makeup questo è MLBB bellissimo anche qua recentemente trovate il video haul questo l'ho acquistato sempre durante il Black Friday Super Jew anzi forse dopo dopo che aveva fatto un'offerta comunque vabbè poco ci importa quando l'ho acquistato l'importante è averlo acquistato perché è bellissimo questo è il colore ed è stupendo quindi non potevo non selezionare un prodotto labbra di Clio perché avevo proprio voglia di utilizzare un prodotto labbra di Clio quindi ho selezionato MLBB poi ho selezionato un rossettino di Kiko che ho acquistato della collezione Holiday Gems e ho selezionato quello della linea Diamond Dust il numero 01 che è quello lì un po' particolare che diciamo quello un po' più metallizzati brillantinati questo qui e il colore è questo quindi ho selezionato appunto questo che è un pochino più rosato MLBB da utilizzare con i trucchi un pochino più rosati questo da utilizzare con i trucchi un pochino più sul appunto marroncino anche quando magari andrò a utilizzare il verde ci sta molto bene poi ho voluto selezionare un e anche questo non l'avevo mai provato ancora sulle labbra da quando l'ho acquistato poi ho selezionato un altro rossetto che invece questo è un po' che non utilizzo ed è uno di Mulac ed è Rudolf numero 32 Rudolf questo è il pack appunto del rossetto e questo è Rudolf quindi visto che è un pochino che non lo utilizzo voglio rimetterlo appunto in utilizzo quindi pesco sia comunque cose nuove ma anche cose un pochino più vecchie che magari non sto utilizzando da un pochino poi come rossetti liquidi ne ho selezionati due allora ho voluto selezionare la mia amata Lover di Maybelline questa qui le Superstay Matte Inc e vabbè Lover è conosciuta comunque vabbè è un po' che non la utilizzo quando era uscita io la utilizzavo tutti i giorni questa qua e quindi ho voglia di riutilizzarla secondo me insieme agli ombretti di questa qui di Tarte sono secondo me ci sta benissimo e poi ho voluto selezionare invece un rossetto liquido nuovo di We Make Up della linea Ever ed è questo qui che ho voluto selezionare è il numero 06 questo è il rossetto liquido e questo è lo sboccio del rossetto bellissimo anche questo e avevo voglia di utilizzare uno di questi nuovi perché voglio vedere un po' come si comporta sulle lambra ho selezionato anche una matita lambra da utilizzare più che altro insieme come contorno labbra con questo rossetto liquido qua di We Make Up più che altro ed è della Rimmel della linea Lasting Finish Allora la 063 Black Tulip vi faccio subito lo swatch ve lo metto vicino al rossetto liquido perché a me sembra che sia proprio preciso comunque questa è la matita quindi secondo me ci sta bene con questi rossetti qua allora io ho terminato vi ho mostrato tutto il make up che ho selezionato per il mese di gennaio so che questa tipologia comunque a molte di voi piace quindi a me fa piacere tantissimo girare questo video mi diverte anche tantissimo selezionare i prodotti nella mia make up collection perché appunto avendone un po' così riesco a far girare un pochino tutto spero che questo video vi sia piaciuto di avervi fatto anche un po' di compagnia vi mando un grosso bacione e vi aspetto nel prossimo video ciao ciao